Allora partiamo subito con un unboxing di un mega bombardo Bombardone Non è comprato È fatto Vediamo il contenuto È uscito tutto E Fonde tutto Ci sono Formaggio Mozzarella Queso blanco Olive E poi il sugo Nei bombardoni Non si mette dentro Si mette dopo Adesso è solo che Saranno 10.000 gradi Farner Allora partiamo Allora partiamo nella pentola abbiamo dovuto fare questi risvoltoni giganti. Questo pucceremo nel sugo. Stava accadendo. Ora si prende il sugo. Allora, cazzo è blu, cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto e due. Questo blanco, a vederlo, non sembra niente di che è quadrato. Non mi cerco una mozzarella di brufola americana, però c'è il suo non so perché, c'è il suo perché. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma mi sono messo il tovagliolo davanti. Ne ho prego l'altra volta? Mi è scappato un butto, ho messo una fetta di pane davanti, no? Eh ma perché siccome noi bon ton, ci chiamiamo al bon ton. Allora... Stiamo guardando pound stars. Molto bello. Non possiamo spegnere la tv, perché... Molto bello. Molto bello. Molto bello. Molto bello. A lui mi ci voleva un po' per finire questo. Allora per il momento di tutto, ciao a tutti!